amici di alessandro tech world benvenuti in questo nuovo video di configurazione dove vi faccio vedere come associare i due power line in questione che sono i tl pa 20 10 p kit due power line compresa passante per associarli dobbiamo fare il pairing quindi sotto abbiamo un tastino denominato pair dobbiamo schiacciarlo per un secondino e mezzo e attendere che questa spia del power lampeggi vedete questa spia del power lampeggi ok non dobbiamo tenerlo premuto perché se lo teniamo premuto il prodotto si resetterà dobbiamo schiacciarlo una sola volta però non fare un click perché sennò potrebbe capitare che questo non lampeggia quindi dobbiamo schiacciare il per un secondino e mezzo e lasciarlo vedete che il il blu il c'è il led power sta iniziando a lampeggiare vedete ora sta lampeggiando e quindi lui in ascolto per fare il pairing abbiamo tempo due minuti andiamo dall'altra parte facciamo lo stesso sotto c'è un tastino uno e mezzo lasciamo e attendiamo che i due si accoppino attendiamo quindi circa un minutino e mezzo ecco ragazzi avete visto adesso i prodotti sono associati come potete vedere il led centrale è acceso e quindi la comunicazione tra due power line sta avvenendo come tramite onde convogliate sull'impianto elettrico di casa quindi da una parte metterete il cavetto ethernet che va al modem router e quest'altro power line lo potete portare in tutte le zone della casa dove vi necessita di avere una connettività e qui potete per esempio attaccarci una una lampadina davanti qui e quindi non perdere l'utilizzo della vostra della vostra presa questo è un prodotto davvero molto interessante perché ti permette di non perdere la presa che volete utilizzare molte volte vanno messi in posizioni veramente non molto agevoli magari non si hanno molte prese ma si necessita di collegare magari uno o più cosa avete magari una ciabatta questi prodotti nelle ciabatte non vanno bene quindi ecco che questi prodotti con la presa post tru tornano veramente molto utili per resettarli vi faccio vedere come si deve fare si tiene schiacciato il tasto di pair per 10 secondi lo facciamo su prima su questo prodotto non c'è una regola potete farlo prima da una parte prima quello collegato al modem router se ne avete tre potete farlo non c'è una logica quindi premiamo il tasto di pera finché tutte le luci si spengono 1 2 3 anzi non contate attendete che tutte le luci si spengono quando si spengono come in questo caso vedete attendiamo un secondino e lasciamo il prodotto si sta resettando andiamo dall'altra parte e facciamo lo stesso quindi resettiamo anche l'altro power line eccolo qua si è resettato anche l'altro power line adesso attendiamo circa un minutino che i prodotti si avvino completamente quindi chiaramente questa spia centrale non sarà più fissa perché abbiamo resettato quindi i prodotti tra di loro non sono più associati eccoci qua ragazzi alle conclusioni finali di questi fantastici power line di casa tipi link intanto vi faccio vedere il contenuto del packaging abbiamo due patch da un metro quindi del cavo essere da un metro un cd dove dentro c'è praticamente una power line utility scan che vi fa vedere l'allineamento in megabit che ricordo essere massimo di 200 dei due power line o più di due power line perché potete averne fino a 14 tipi link di chiara così io non consiglio più di più di 4 una piccola guidettina che dice anche il contenuto del packaging vi fa vedere come collegare i power line quindi come potete vedere uno power line vicino al modem router collegato al modem router e l'altro dove vi necessita collegarci un pc e quindi poi anche la ciabatta perché ricordo essere pastru è una piccola video installazione rapida che praticamente dice le stesse cose in parecchie lingue di cui abbiamo anche l'italiano eccoli qua i protagonisti di questo video allora che dire di questi power line quando utilizzarli allora diciamo che questi power line è utile utilizzare nel momento in cui abbiamo non abbiamo la possibilità di collegare di tirare un cavo ethernet nell'impianto elettrico di casa per vari motivi come dicevo prima per via che non ci passa il cavo oppure l'elettricista con le nuove normative non può farlo passare nella corrente quindi non ve lo tira e non voi non volete spaccare la casa per tirare un cavo ethernet quindi questi prodotti vanno bene nel momento in cui voi non avete la possibilità di appunto tirare un cavo ethernet e però anche nel momento in cui voi non volete perdere la presa di una delle tante che avete a casa perché questo perché questi prodotti non vanno collegati nelle ciabatte quindi il 4220 che ho recensito anche diverso tempo fa eccetera non vanno collegati nelle ciabatte quindi il senso di avere dei power line con la presa passante è proprio quello di non collegare le ciabatte quindi poi la ciabatta sullo stesso power line come vi dicevo tp link mi ha comunicato che i power line arriveranno con presa da 10 italiana perché come potete vedere questi hanno la presa asciuco non una presa asciuco tedesca e non in tutte non in tutti gli impianti di casa è presente quindi questo è già un problema perché sostanzialmente dovete avere chiaramente una presa di quelle sciuco per poterli collegare altrimenti non va bene molti sicuramente mi chiederanno posso usare un adattatore la risposta è sì però l'adattatore sicuramente un po' di dispersione la crea teoricamente non andrebbe messo però in questa presa asciuco è davvero un po' particolare non tutti ce l'hanno o magari ce l'avete ma non dovevi serve mettere il power line quindi questo potrebbe anche essere un problema quando è come utilizzarli utilizzarli come vi ho fatto vedere nel video di quindi fare il pairing e quant'altro potete collegare un pc e quant'altro ma potete anche per esempio collegare un access point e quindi avere poi connettività wireless oppure potete mettere un router e quindi poi scusate avere anche la possibilità di collegarci per esempio un computer via cavo e utilizzare questa porta per collegare poi il router che vi dà anche la connettività la connettività wireless questo è il tastino di pair che vi dicevo forse lo metto nel video qualche immagine che ve lo fa vedere che serve appunto per resettarlo e associarlo il tastino multifunzione fin quando tutte le luci non si spengono per resettarlo un secondino per associarli e per fare quindi il pairing dei prodotti i prodotti funzionano funzionano bene si allinano circa 80 70 megabit gli speed test si fanno in megabit quindi ormai una 20 megabit tranquillamente viene retta il problema sorge quando magari avete delle linee più performanti come una fibra a 100 megabit allora chiaramente lì non potete sfruttare sicuramente il appieno questi 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 no più che altro non potete sfruttare appieno la vostra linea perché chiaramente non allineeranno mai a 100 megabit bene io credo aver dato tutto per questo video appunto è tutto iscrivetevi al canale mettete un mi piace al video e condividetelo con più persone che potete grazie e al prossimo video